Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Questa è l'ultima lezione dedicata agli effetti video in Adobe Premiere Dal prossimo tutorial parleremo dell'audio finalmente Parleremo di come creare un buon suono per i nostri contenuti multimediali Argomento spesso sottovalutato dai montatori video Che magari sono bravissimi a mettere insieme le clip una dietro l'altra Ma poi quando si tratta di dover lavorare l'audio molti cadono e crollano in disperazione In realtà vedrete che Premiere mette a disposizione degli strumenti molto semplici da usare per l'audio Ma ne parleremo nel prossimo tutorial Oggi dicevo chiudiamo la carrellata sugli effetti video presenti in Adobe Premiere Parlando di come creare, salvare, esportare ed importare degli effetti predefiniti Prima però vi ricordo se volete di venirmi a trovare sul sito internet www.fabioambrosi.it Sito dove troverete l'indice con tutte le lezioni di questo corso fatte fino ad ora E anche una sbirciatina su quello che faremo nelle prossime settimane Iscrivetevi anche a questo canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial Se volete mettete un like, se volete e avete domande commentate e bando alle cange Cominciamo subito con il tutorial di oggi Cosa faremo? Allora io prendo come esempio ancora una volta la clip video del gabbiano che si posa sopra al cassonetto dell'immondizia Io nella scorsa lezione avevo utilizzato questa clip quando ho parlato di come stabilizzare un video Riutilizzerò lo stesso clip per mostrarvi come sia possibile creare dei preset personali di effetti Da poter poi riutilizzare anche per altre clip video Mi spiego meglio Prendiamo ad esempio questa clip Io chiaramente ho aggiunto diversi effetti per poter creare questo look Per esempio ho aggiunto un po' di color correction come potete vedere per dare una tinta un po' più acquosa Ho aggiunto anche una sfocatura canale per dare questo senso un po' meno realistico, un po' più sognante E ipotizziamo che ho questi due effetti che comunque hanno i loro preset, hanno le loro caratteristiche, i loro settaggi personali che io mi sono scelto per uno di loro Ipotizziamo che questi due effetti io li voglio prendere così come sono con gli stessi identici valori e portarmi per esempio sull'altra clip del piccione Perché io ho un'altra clip su cui voglio lavorare e voglio applicare lo stesso identico gruppo di effetti anche a questa clip Come posso fare? Sì, allora si può ovviamente utilizzare il copia e incolla Quindi io posso prendere questi due effettini, premere i tasti CTRL C Selezionare anche la clip di destinazione a cui voglio applicare gli stessi effetti Selezionare il pannello CTRL effetti, premere CTRL V E questi due effetti vengono ovviamente correttamente inseriti Ma ipotizzate di voler utilizzare questi due effetti video su un altro progetto Oppure volete condividerli con un vostro amico a cui piacciono particolarmente e che vuole rubarveli Come potete fare? Come è possibile salvare questo gruppo di effetti come un effetto predefinito? È molto semplice Dovete innanzitutto selezionare gli effetti che volete includere nel predefinito Andare nel menu del pannello CTRL effetti E scegliere la voce salva predefinito Si aprirà questa finestrina in cui voi potete sostanzialmente scegliere un nome per il vostro predefinito Io in questo caso ho scelto di dare il nome demo al mio predefinito Potete scegliere anche tra queste opzioni Che vi permettono in poca sostanza di controllare il modo in cui l'effetto predefinito Andrà ad inserire eventuali fotogrammi chiave nella clip di destinazione Detto così mi rendo conto che si capisce poco Spiegato più semplicemente vuol dire che se negli effetti che avete incluso Nell'effetto predefinito ci sono dei keyframe Ecco quando andrete ad applicare il predefinito Questi keyframe sostanzialmente o verranno scalati in relazione alla durata Chiaramente della clip di destinazione Oppure verranno messi con la durata originale così come sono A partire dall'attacco del video O a partire dallo stacco del video Dalla fine del video Date una descrizione al vostro effetto Se volete avere delle informazioni aggiuntive Magari da condividere con i vostri collaboratori Demo, effetto, demo, effetto, demo per esempio E cliccate su ok Ok apparentemente non è accaduto nulla In realtà se guardate nel pannello effetti sotto alla cartella predefiniti Troverete il vostro fantastico effetto demo Con un'anteprima del look che avrà questo effetto nella vostra clip destinazione E adesso se voi avete un'altra clip o avete altro materiale a cui applicare Questo gruppo di preset che avete appena creato Basta trattarlo come un effetto qualunque Quindi trascinarlo Ed ecco che in pochi secondi Il vostro preset viene applicato Oh chiaramente dicevo che la cosa bella Del poter salvare, esportare, importare degli effetti predefiniti È proprio quella di poterli condividere con i vostri collaboratori Quindi dovete in questo caso esportare Potete esportare questo predefinito sul vostro hard disk Per poi metterlo in una chiavetta o per spedirlo via mail Non sono particolarmente pesanti Come si fa ad esportare un effetto predefinito appena salvato in Adobe Premiere? Bene, basta cliccare con il tasto adesso del mouse Sopra l'effetto che si vuole esportare E ovviamente scegliere esporta predefinito Io navigo nel mio computer, nella cartella in cui voglio salvare il mio elemento Do un nome, in questo caso demo E clicco su salva Ecco, il mio predefinito sarà salvato sul computer E io potrò condividerlo con chi voglio O tenerlo da parte per un eventuale backup Come si fa ad eliminare invece un predefinito che non ci serve più? Stessa operazione di prima Cliccare con il tasto destro del mouse Sopra l'effetto predefinito e scegliere elimina Siete sicuri di voler eliminare? Sì e l'effetto non c'è più Sostanzialmente avete rimosso l'effetto predefinito da voi stessi creato E se volete importarlo un effetto predefinito Magari perché un vostro amico ve lo ha inviato e vi sta invitando a valutarlo Ecco, noi possiamo cliccare su un qualunque effetto predefinito In realtà scegliere importa predefinito Ecco, navigare nella cartella che ospita il file predefinito che voi volete importare Cliccare su apri ed ecco che il nostro predefinito che avevamo buttato praticamente è tornato al suo posto Queste sono cose molto importanti perché vi permettono di avere un backup del vostro lavoro E io vi consiglio di avere sempre un backup delle cose che fate Delle impostazioni, ovviamente dei progetti su cui state lavorando Perché è sempre meglio prevenire che curare un'eventuale situazione catastrofica Quindi potete esportare i vostri preset, condividerli e ovviamente tenerli da parte Per il momento io chiudo qui il lungo capitolo aperto ormai qualche mese fa Dedicato agli effetti video in Adobe Premiere Come già detto nella lezione precedente di cose da dire Ce ne sarebbero ancora tante, 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 tante Ma ovviamente questo è un corso base Quindi io per il momento vado avanti E come già anticipato tratterò nella prossima lezione dell'audio Che è un argomento piuttosto interessante da affrontare Bene, con questo è tutto Vi ringrazio, vi ringrazio ancora Iscrivetevi a questo canale per non perdervi i prossimi tutorial Parleremo dell'audio nella prossima lezione Quindi non mancate Iscrivetevi e commentate questi video Se avete domande di qualunque natura Possibilmente legate all'argomento che affrontiamo nella lezione E ovviamente mettete un like se vi fa piacere www.fabioambrosi.it Lì troverete un articolo riassuntivo Con tutti gli argomenti che abbiamo affrontato in questi tutorial Quindi venite a trovarmi Grazie ancora, buon proseguimento, ciao